amici cari eccoci buonasera allora stasera affrontiamo un un tema particolarmente delicato guardate vi devo dire vi farò vedere dei documenti non solo delicati ovviamente oscurando i nomi fatti ma anche molto forti per cui ci guardiamo questo video questa sera con attenzione rispetto perché ci sono dei fatti che lasciano sgomenti dei fatti istituzionali anche io stasera stasera insieme parliamo della violenza sulle donne che non è solo quella violenza che leggiamo sui giornali donna violentata o o un marito uccide la compagna è molto più grave molto più grave perché dove finisce la violenza sulla donna e inizia una violenza istituzionale il fatto è ancora più grave e riguarda completamente la nostra società quindi non solo i rapporti fra singoli menti malate che perseguitano persone donne ovviamente meno difesi di di un uomo violento ma nel momento in cui ci si mettono anche le istituzioni il problema non è di relazione ma il problema è sociale gravissimo è pazzesco e qualche cosa che lascia un forte segno nel cuore e io purtroppo con il nostro lavoro con il mio lavoro ne vivo di tutti i giorni e spesso mi vergogno anche delle istituzioni e vi farò vedere questa serie dei documenti documenti gravi inediti ma non filosofia non non preconcetti documenti di fatti che avvengono in italia fatti partiamo da dai titoli dei giornali dell'altro giorno c'era un evento particolare la violenza sulle donne anniversari e i giornali hanno fatto questi titoli che vi faccio vedere eccoli qua non sottovalutate nessun soccluso le prove non servono si leggete si indaga anche senza lo dice il dirigente pamela franconieri ecco che si è fatta intervistare con fotografia della squadra mobile guardate ecco non sovalutare sottovalutare quindi basta che venite in polizia e sarete per i maltrattamenti che si procede d'ufficio la segnalazione vi mette subito al riparo quindi che cosa dice lo stato lo stato dice donne che avete un problema di violenza contro di voi qualsiasi genere di violenza segnalateci subito subito non serve neanche la denuncia interveniamo immediatamente questo è il messaggio che dà lo stato in questo caso attraverso attraverso un dirigente della polizia allora domandiamoci ma è tutto vero questo allora è così semplice una donna vittima di soprusi violenze va alla polizia in questura anche senza denuncia quindi anonimamente dice il mio compagno mi perseguita oppure mi fa violenza psicologica oppure mi picchia da quel momento la polizia la questura interviene e la donna è salva no non dico no per una questione ideologica dico no perché purtroppo molto spesso è assolutamente falso purtroppo è assolutamente falso non c'è nessuna protezione adesso vi farò vedere questo documento questo documento che è datato è datato luglio 2020 ovviamente non ci sono nomi tutto cancellato ma l'ho seguito personalmente io l'avvocato polaco e quindi tagliando le parti in cui perché è una cosa particolarmente grave delicata una ragazza una ragazza si rivolge al nostro studio è perseguitata perseguitata dal proprio ex compagno e che cosa facciamo facciamo quello che prevede la legge vi faccio vedere vi faccio vedere ecco qui al questore eccolo qui istanza di ammonimento per atti persecutori chiede che il questore proceda all'identificazione e ammonimento della persona e qui iniziano vedete la descrizione dei fatti facciamo vi faccio vedere i fatti salienti ovviamente sono tantissimi vi leggo quelli più importanti ha iniziato a perseguitarmi a minacciarvi poi spesso mi segue per strada sto leggendo e spesso sa con anticipo i miei impegni e spostamenti mi perseguita con un centinaio di messaggi al giorno con inizio alle ore 6 di mattina come da allegati tutto provato e mi minaccia di morte vi faccio vedere solo una anzi non ve la faccio vedere perché è un è un messaggio telefonico ve lo leggo non questo è il tizio che la perseguita e gli manda i teschi i cappi gli impiccagioni non te preoccupa ogni cosa a suo tempo mi puoi anche denunciare mi puoi anche denunciare non ho paura a chi ha più polvere spara tranquilla merda scusatemi ma sto leggendo ecco questi messaggi sono centinaia questa donna è perseguitata in maniera ve le ho fatti vedere una denuncia sono tutti allegati la signora è stata chiamata dalla questura non vi dico quale perché non voglio infierire sulle questure ci sono tanti uomini che fanno il proprio dovere è la funzionaria che l'ha interrogata le ha risposto signora sono troppe poche le prove serve molto di più per l'ammonimento del questore le istituzioni non proteggono sempre le donne vittime di violenza questa è una prova se qualcuno della questura mi vuole chiamare gli porto il fascicolo se il questore il capo della polizia non crede mi può chiamare tranquillamente porto l'intero fascicolo con tutte le minacce di morte questa signora è stata lasciata senza nessuna protezione luglio 2020 andiamo oltre la violenza contro le donne e anche violenza contro le mamme e le istituzioni cosa ci dicono come questa funzionaria polizia che abbiamo visto qualche minuto fa la rivediamo guardate perché dobbiamo rivederla perché ecco rivediamo un attimo vi dico un altro un altro fatto eccola qui non sotto guardate nessun sopruso non servono le prove si indaga anche senza guardate ecco allora allora ho seguito segue decine se non centinaia di casi simili a quello che vi sto facendo vedere simili a quello che vi sto facendo vedere questo è un fatto molto forte e ogni volta che lo leggo verso una lacrima sento i peli elettrizzarsi perché è drammatico quello che vi sto per far vedere ma di questi fascicoli che vi sto per fare vedere ne ho decine in cui le istituzioni chiedono alle donne di denunciare le violenze che subiscono e poi per casi fortuiti chiamiamoli così le donne diventano loro stesse oggetto di soprusi istituzionali molto spesso molto spesso molto spesso il la sottrazione del minore nasce proprio dalla denuncia che la mamma va a fare in questura e denuncia e denuncia che il proprio compagno è violento che il proprio compagno fa atti strani che il proprio compagno è manesco da qui parte la denuncia ma si inseriscono i tribunali minorenni vi faccio vedere uno dei tantissimi casi che seguiamo per farvi vedere quello che succede e quindi dalla donna da violentata da un singolo picchiata usurpata dal singolo diventa violentata dal sistema purtroppo e di questo ce ne vergogniamo guardate questa donna denuncia il proprio compagno guardate per quali articoli vediamo se non si vede nulla sto attentissimo perché è delicatissimo non si vede nulla ecco qui guardate il nome del popolo italiano sentenza imputato impugnando il tizio impugnando con un coltello privato dal cassetto con questo coltello potrei tra gli altri pezzetti alla moglie sottili sottili che nessuno ti troverebbe minacciava la moglie e dopodiché palpeggiando le mani il seno eccetera eccetera non leggiamo le cose volgari che ci sono condanna il tizio è stato condannato penalmente vediamo eh vi faccio vedere condanna ecco qui la condanna ecco interviene il tribunale dei minori perché c'erano dei minori vi faccio vedere solo il titolo guardate 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 questo è il titolo non vi faccio vedere altro per riservatezza che cosa è successo sedetevi perché vi faccio vedere un documento molto forte molto forte molto forte di cui mi vergogno istituzionalmente anzi dato che vi leggo questo documento riservato lo faccio senza la mia troga e mi assumo anche le responsabilità di questo documento ve lo faccio vedere poi ve lo leggo perché è molto forte ecco qui guardate questa è la lettera del bambino del figlio guardatela vedete guardate che scrittura guardate era il penultimo giorno di scuola stavamo facendo le copertine dei quaderni io avevo chiesto alla maestra se potevo andare in bagno ritornavo dal bagno ho visto la preside lei mi ha chiesto se potevo aiutarla io gli ho detto ok mi ha portato nella biblioteca della segreteria e lì ho trovato due assistenti sociali che mi hanno detto senti tu dovrai vivere da un'altra parte finché non ti sistemano le cose mi hanno portato in macchina io pieno di lacrime venivo portato via io piangevo come un disperato ma loro mi ignoravano il mio cuore era pieno era pieno di dolore disperazione di tristezza non pensavo che portavano i bambini via dai propri genitori io stavo bene con la mia mamma la mia vita era felice spesso andavo a trovare mia nonna e mia zia stavo bene con me stesso avevo quello che mi serviva per essere felice non mi serviva nient'altro questo è un documento processuale che vi ho fatto leggere a dimostrazione di come una normale denuncia di una donna violentata di una donna oppressa può diventare in alcuni casi una cosa ancora più drammatica e allora e allora io invito le istituzioni invito i questori invito i tribunali a pensare bene quando si tratta di violenza sulla donna a pensare bene a quello che fanno le istituzioni perché la donna non può essere violentata una prima volta all'interno di mura domestiche è violentata una seconda volta dalle istituzioni pensate a quello che fate istituzioni e volevo in questo tema io vi chiedo scusa per una cosa che ho nel mio cuore da da sempre da sempre una cosa nel mio cuore al di là della fede si può avere fede in un dio che si chiama buddha momento dio ma è la fede e la fede che ci deve portare che ci porta a credere a volere unione tra le genti fratellanza tra le genti non diversificazione sociale siamo tutti uguali di fronte alla morte di fronte a qualsiasi dio allora allora io mi sono sempre posto una domanda lo dico anzi prima vi leggo un titolo e poi mi rivolgo direttamente a un capo religioso ecco il titolo è questo il vaticano accorto di preti si affida ai laici per i sacramenti allora io mi rivolgo direttamente al papa papa francesco che sembrerebbe che in questo periodo storico la chiesa sia demolita cioè un sacramento che è il massimo momento religioso di un credo debba essere affidato a un laico a una persona normale come me e non a chi ha preso i voti è una cosa che io ritengo personalmente sacrilega ma faccio una domanda io faccio una domanda a te papa francesco ma le donne che cosa sono sono un rifiuto ma le donne che cosa sono 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 una razza destinata a fare le domestiche ma le migliaia e le migliaia di suore che fanno il loro il loro lavoro fantastico lavoro religioso dedicando la loro vita intera alla religione alla loro a loro credo a dio ma perché devono essere segregate e loro non possano dispensare i sacri me i sacramenti i sacramenti li potranno dispensare i laici ma non le suore ma è questo il cristianese questo è quello che ci ha insegnato cristo questo è quello che insegnano le religioni che non vogliono differenze di razza che vogliono la pacificazione dell'uomo l'amore è questo che insegnano le religioni che le donne devono essere escluse da qualsiasi cosa possono al massimo fare le domestiche di qualche alto prelato non possono dare sacramenti ma addirittura un uomo maschio laico può dispensare sacramenti io penso che questa sia una gravissima ingiustizia gravissima ingiustizia io vi chiedo scusa di aver parlato di una cosa diversa dal solito ma è un sentimento che provo nel cuore che non mi consente di guardare con serenità una religione una regione di appartenenza del popolo italiano soprattutto del popolo italiano dove vige dove esiste questo stato che consente ai maschi anche laici addirittura di dispensare l'estrema unzione ma non lo può fare una sola è una cosa che avevo nel cuore vi chiedo perdono se ho disturbato qualcuno con questo mia confessione richiesta è una richiesta che faccio al papa dici per cortesia perché le donne devono continuare ad essere escluse dai sacramenti ci vediamo domani sera vi abbraccio tutti ciao ciao Grazie a tutti.